Un evento interdisciplinare per generare nuove idee che ha visto la premiazione di tre start-up emergenti sostenibili e innovative scelte all'interno dell'ecosistema della Camera di Commercio francese in Italia. Nel Palazzo della Borsa a Milano si è tenuta la prima edizione del Grand Prix Start-up che ha visto la partecipazione di start-up di successo, Scale-Up, Unicorni, Venture Capital, Incubatori, Abtech e Influencer. Sei le start-up selezionate, tra le quali sono state premiate Neolite, presentata da BPI France, Evoji, presentata da Leighton e Aquasic, presentata dalla Fondazione Michelin Sviluppo. Questa giornata è una giornata straordinaria perché è un evento, il primo evento che si ripeterà ogni anno per far sì che Milano diventerà la capitale dell'innovazione responsabile, capitale dell'Italia e speriamo capitale dell'Europa. L'evento è stato aperto dall'ambasciatore Massé che ha sottolineato la stretta relazione di imprese e di innovazione tra la Francia e l'Italia. Si vedono sempre più intrecci tra i due ecosistemi. Il punto di incontro è Milano che è una città di innovazione, che è anche una città di transizione digitale ed ecologica. E' proprio questa l'idea del Giudice Italia, siamo insieme nello stesso pazio condividendo un obiettivo che è quello dell'innovazione responsabile. E Milano, per voce del suo sindaco, ha ribadito l'impegno per l'innovazione. L'importante è che escano progetti concreti, dimostrazione che le buone idee si trasformano in iniziative. Le start-up le possiamo vedere ad oggi, per quanto vediamo, anche a Milano purtroppo un po' con luce e un po' con ombre. Ancora qualche difficoltà nel finanziare la crescita. Molto spesso non è quella aggregazione che servirebbe. Però credo che invece sia un momento in cui tanto può cambiare. Anche dall'università c'è ad esempio la volontà di fare qualcosa assieme. Presenti a Palazzo Mezzanotte anche le grandi aziende. Le start-up sono un modo per fare il cambiamento delle competenze. Le start-up hanno la possibilità di innovare più velocemente, di trasformare più velocemente rispetto alle grandi aziende come la nostra. Quindi noi prendiamo dalle start-up idee e soprattutto upgrade di skill e di competenze. Competenze che guardano ovviamente all'innovazione, ma soprattutto hanno come obiettivo ultimo la sostenibilità. Vero grande traguardo per la nostra società. Gratulazioni!